Ciao a tutti! Oggi un nuovo tutorial per il DTD YuplaCraft. Per l'occasione ho pensato di realizzare un layout dedicato all'amicizia. Questo è il layout ed l'ho dedicato alle mie amiche di scrap, a Roberta e a Sara che ho conosciuto appunto proprio grazie allo scrap ed è nata una bellissima amicizia. Come base ho utilizzato una carta da scrapbooking effetto acquerello che ho posizionato su una carta scrap con sfondo nero e pua bianchi. Il layout è centrato tutto sulle quattro foto che ho incorniciato con le cornici quadrate di YuplaCraft. Ho utilizzato sia il prisma che i legnetti. I legnetti sono andata a colorarli con un inchiostro nero e ho poi imbossato a caldo una polverina bianca in modo molto approssimativo per creare l'effetto un po' rovinato. Ho impreziosito poi il tutto con alcune timbrate, qualche elemento in oro come dei pua e dei cuoricini e poi sono andata a contornare tutte le cornici con gli abbellimenti che fanno parte degli argomenti amicizia. Ho utilizzato anche qualche parolina a tema amicizia ed ecco qui. Poi all'interno sotto la cornice questa qui ho inserito il journaling e la data e l'alfabeto fanno in fondo. Bene, spero che questo video potrà piacervi. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!